... Mister Mariani, una sconfitta di misura contro un buon Bari, ma la Ternana ha sicuramente fatto del suo meglio. Sì, una sconfitta su rigore, dispiace, come l'altra domenica. Abbiamo perso due partite su due rigori alla fine, però è stata una buona partita, due squadre che hanno giocato, hanno lottato. Mi dispiace per il risultato, le prestazioni hanno fatto una prestazione, anche perché bisogna far crescere questi ragazzi. Anche le sconfitte vanno bene per la crescita, questo è importante. Dispiace per la sconfitta. Dove, secondo lei, è venuta meno la Ternana oggi contro i Galletti? A noi ci manca davanti. Davanti, sinceramente, ci manca un attaccante di peso, come per esempio il Bari, che è un attaccante importante per me. Infatti ho fatto i complimenti a fine partita dicendo di fare una grande carriera, perché è un giocatore che non molla mai, lotta. Manca davanti. Noi ci manca davanti, lo sappiamo. Adesso sicuramente con il direttore stiamo cercando qualche attaccante, perché si crea molto, poi alla fine si concretizza poco. E questo è una pecca di questa squadra. Ci sono state proteste nello finale per un presunto contatto in area di rigore? Ma si può stare. Se vanno tanti errori può sbagliare l'area, lo sbagliamo noi. Io ho dovuto togliere un ragazzo perché aveva risposto alla panchina, ho preso l'ho tolto, perché poi bisogna anche educarli questi ragazzi, no? Sì, il risultato, però più importante è il rispetto poi anche tra avversari. Poi l'arbitro può fare bene e può fare male. Non so se c'era fallo, però va bene così ecco. Una battuta finale le la chiedo sul Bari. Che impressione le ha fatte più in generale la squadra di Mr. De Angelis? Ma è una squadra molto messa bene in campo, solida, ha degli esterni alti molto bravi, l'attaccante molto bravo. È una squadra completa. Manca qualcosina dietro sugli esterni, quello che ho visto io. Dietro poi c'è uno Deketè che è una figura importante, il giocatore che soltanto il nome, gli avversari si preoccupano. Però ecco, sugli esterni manca qualcosina, però è una squadra che può raggiungere un obiettivo, può raggiungere i play-off, come cerchiamo poi di raggiungere anche noi.